Meno male, meno male che c'è stato il gol di Lasagna a quattro minuti dalla fine, meno male perché ho pensato durante tutta la partita ai tifosi dell'Udinese, ai tifosi dell'Udinese presenti allo stadio, allo Juventus Stadium, che ci sono sobbarcati oltre i costi economici, va bene, anche la fatica di un venerdì magari per qualcuno di lavoro, hanno lasciato anche il lavoro per essere presenti vicini alla loro squadra, perché si è sempre vicini alla propria squadra e hanno visto questa desolante prestazione. Meno male che è arrivato il gol di Lasagna sul quattro a zero per la Juventus, che per fortuna dei tifosi friulani almeno ha dato un piccolo scatto di adrenalina in una partita totalmente piatta. Poi qualcuno non è d'accordo quando io dico che il campionato per la Juventus è penalizzante, perché poi non sono riusciti nel passato, non sempre, perché non dobbiamo dimenticare che le due finali le ha giocate la Juventus, non le ha giocate un'altra squadra italiana. Dicevo, non è allenante, io sono abbastanza di questo parere, perché la Juventus doveva prepararsi bene per la sfida epocale di martedì contro l'Atletico, ma lì non c'è stata proprio partita questa sera con l'Udinese, un'Udinese rassegnata, un'Udinese che deve trovare gli ultimi punti per salvarsi, con un allenatore capace e pugnace, però anche lui non si capacitava. Subito Kane segna il gol dell'1-0, poi c'è un'altra palla persa in maniera banale da Fofanami, sembrano da un altro giocatore dell'Udinese. Kane, bella azione, con un colpo di biliardo, una puntata, ed è il gol del 2-0, senza reazione dell'Udinese. Purtroppo per la Juventus, e ci dispiace per il giocatore che è uscito arrabbiato, depresso, amareggiato, triste, parliamo di Barzagli che ha ancora avuto un problema fisico e ha tolto la fascia per la rabbia. Questa è l'unica nota negativa di questa partita. È entrato poi Bonucci. Nel secondo tempo, dicevo, contro un'Udinese è totalmente passiva. C'è poi il gol, altro lì, altro errore, un intervento falloso, pesante, di un giocatore dell'Udinese. L'arbitro non poteva esimersi dal fischiare il calcio di rigore. Emre Can spiazza, o meglio, tira centrale col portiere che si era buttato da un'altra parte. Poi ci sono le varie occasioni di Bernardeschi, che non è riuscito a mirare alla porta. E poi anche Matuidi, ovviamente solo in area, realizza il gol del 4-0 di testa. E poi c'è stato il gol di Lasagna. Chiaro, una partita che doveva portare la Juventus a mettere altri punti. Adesso sono addirittura 19 sul Napoli. 19 sul Napoli, che deve giocare però la partita contro il Sassuolo. Napoli concentrato, ovviamente, per il ritorno di Salisburgo. Insomma, un campionato che sta diventando, in questa finale, anomalo. Perché almeno negli anni scorsi il distacco tra la prima e la seconda faceva presagire magari un qualche un po' di pepe. Niente, la Juventus ha passeggiato questa sera. Udinese che non è rimasta in Friuli. Deludente. Dispiace per i tifosi friulani. C'è stata questa gioia di Lasagna. Un bellissimo gol, un bel tiro in diagonale. La Juventus, dunque, che ha fatto risparmiare i suoi giocatori, ovviamente, in vista del match con l'Atletico Madrid, si porta a casa questi tre punti senza la minima fatica. Un allenamento, possiamo dire, ma neanche molto intenso e probante. Quello che conta è che la Juventus ha messo altri tre punti nella sua classifica e ora c'è la grande sfida con l'Atletico Madrid. Per l'Udinese, che è arrivata totalmente rassegnata, i punti cercherà di prenderli in altri campi contro altri avversari. Però dispiace per i tifosi che ci sono fatti 600 chilometri o 500, non so la distanza esatta, da Udine per vedere la loro squadra così, così arrendevole. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.